Lascio la parola a Roberto Orlandi che è il presidente degli agrotecnici ma è anche, lo dico con orgoglio, il vicepresidente della fondazione EvoSchool perché Roberto ha creduto con noi quando abbiamo istituito EvoSchool come confederazione nazionale immediatamente al progetto di valorizzazione dell'Olex a Regione Oriba ma nell'ambito appunto di un nuovo sviluppo della professione e quindi a lui cedo la parola a Roberto, a te due considerazioni su quello che stiamo insieme realizzando Grazie, buongiorno a tutti, noi quando è nato EvoSchool abbiamo scelto di partecipare, questo rientra nelle policy che mettiamo in atto come atto professionale Relativamente all'olio la nostra ambizione è fare sull'olio quello che è avvenuto nel settore emologico Oggi uno dei settori più forti del made in Italy è il vino, è un settore fortemente esportatore, fortemente produttore di eletto per gli imbreditori più o meno nel mercato ma è quello che c'è il meglio e tutto questo è dato, chi è più anziano di età come me ricorderà, dalla crisi del metanolo quando sembrava che il settore vitivinicolo dovesse chiudere, invece gli imprenditori hanno investito e si è creato uno storytelling sul vino, non abbiamo un comodovato, ma i terroardi francesi ecco però, mentre oggi è normale trovare al ristorante la carne dei multivini è assai curare, direi forse quasi impossibile trovare una carne degli oli e noi dobbiamo lavorare su quello, perché gli oli prodotti in Italia hanno delle caratteristiche organolettiche in Italia, da farli ritenere, qualcuno li ritiene un superfood quindi noi dobbiamo valorizzare quello, cioè noi dobbiamo valorizzare quello che non è replicabile al di fuori dall'Italia se vogliamo pensare di creare un lavoro e ricchezza nel paese questo per dire la nostra posizione rispetto al settore vitivinico ora, invece su DTS, anch'io non posso dire che ho di bene non lo dico perché stiamo basalmente DTS e altri settori lo dico perché quando nacquero, noi ci crediamo subito tanto da riconoscere autonomamente il semestre o più di attività pratiche di stage che ricordavo la coordinatrice di riconoscere come tirocinio valido per l'iscrizione all'alba, per iscriversi al nostro alba vorrei avere un diploma da laurea in agrario, in scienze naturali, in biotecnologie, insomma in vari settori da 6 a 18 mesi di tirocinio pratico noi abbiamo immediatamente riconosciuto qui tirocinio senza che la legge la prevedesse da una scelta nostro autonica poi attualmente un'ultima riforma ha obbligato tutto a riconoscere quindi oggi un ordine professionale non potrebbe disconoscere più tirocinio perché la legge dice che quello vale per l'iscrizione dove è previsto acquistare un'alba ma soprattutto abbiamo visto immediatamente negli DTS quella cosa che diceva il Paese dei derivati una Ferrari che talvolta cammina, talvolta parcheggiata ma è una Ferrari perché lega in un aspetto pratico il mondo del lavoro in questo caso gli DTS non nascono per fare la libera professione lo voglio dire, nascono per il mondo dell'impresa perché il tecnico intermedio è quasi sempre assoluto ciò non toglie che qualcuno possa giocarsi le sue carte anche in percorsi diversi nel mondo professionale ma l'ITS nasce come collegamento formazione, un mondo del lavoro di domenica ma uno dice ma allora quella c'è entra l'altro ma noi viviamo in questo Paese noi abbiamo piacere che il Paese vada bene abbiamo piacere di avere un Paese forte, una manifattura forte quindi la nostra collaborazione si estende anche a quello che non dovrebbe essere il nostro corpista comunque gli DTS danno questo il 50% delle docenze vengono fatti da docenti che vengono dal mondo delle professioni o dal mondo dell'impresa quello che mi ha fatto estremamente piacere è vedere che il nostro premio a Marco Draghi ha subito, che ha un'impronta fortemente europea ha subito creduto nel DTS tant'è che in questi giorni in Parlamento in discussione è una riforma che aumenta, dicendo dieci volte porta un miliardo di euro di profilamenti del DTS aumenta le ore di docenza esterna la porta al 60% se ricordo bene e soprattutto gli cambia nome si chiamaranno accademie perché anche le parole hanno il loro senso ricordava la direttora del corso che i DTS lo confondevano con le tecniche industriali mentre accademia abbiamo sempre di quello di DTS siamo soci fondatori in vari DTS agrarie d'Italia anzi, do la mia disponibilità come qui c'è il Presidente dell'Ordine del nostro dell'Azio qui se le DTS è piacere di entrare come soci in DTS e dare così un nostro materiale di contributo a prescindere da questo noi collaboreremo con la nostra rete con le nostre banche dati per veicolare a tutto l'indirizzare che abbiamo l'indirizzare di DTS perché è bene che parta con un numero di studenti però selezionarlo, un conto è scegliere su 40 persone che vengono un conto è scegliere su 400 candidati dove ti porti a casa un milione gli DTS in Italia devono aumentare come numero questa è la politica del governo io credo che Draghi abbia deciso subito di potenziare gli DTS perché lui viene da un'esperienza europea e l'equivalente anche se è improprio sia le faccoscure tedesche e noi sappiamo che la prima manifattura europea che la nostra contributrice è la Germania e lì ci sono 450.000 studenti dei loro faccoscure, dei loro equivalenti DTS in Italia ne abbiamo 8.000, 10.000 cioè non è noi dobbiamo crescere ora crescendo diminuiranno anche come viene il plesce successivo magari non sarà più l'85% ma insomma diventa anche 75 straordinario quindi questo è tutto quello che è noi d'altra parte queste iniziative le mettiamo in campo come nostre policy devo dirlo perché mi occupo di impigiorirlo noi siamo da 10 anni il primo albo professionale d'Italia come numero di candidati a mesami di abilitazione rispetto all'albo dei nostri colleghi agronomi interintegrali e tecnologi alimentari da 10 anni siamo i primi come numero negli ultimi due anni cioè nel 2019 e nel 2020 abbiamo avuto il privilegio da essere scelti da un candidato su due ad una professione agraria in altri termini sia l'anno scorso che l'anno prima ogni 100 giovani laureati che hanno scelto un albo agrario più di 50 hanno scelto il nostro ecco contemporaneamente lo vediamo nei numeri delle partitele che vengono aperte quindi da chi avvia l'attività professionale noi negli ultimi nove anni il dato medio del nostro incremento di partite iva aperte tolte e quelle chiusi quindi il saldo netto tra chi ha cessato l'attività che ad esempio ti ha aperto per la prima volta noi chiudiamo con un saldo netto del 6,50% all'anno cioè noi siamo cresciuti come professore d'Italia del 6,50% per nove anni tutti gli anni in Italia non c'è nessun'altra categoria in nessun altro settore economico che ha saputo fare con la prima questo è perché abbiamo una serie di collaborazioni aperte come quella che c'è vogliamo dare il nostro contributo dicevo nel settore dell'ordine darei tutto il nostro contributo perché ci sia un'affluenza importante di giovani che si iscrivono all'ITS anche per avere una continuità di studi nel tempo perché diciamo questa è una filiera che deve essere portata in un'attività grazie